Il tennis tavolo Sassari della Serie A2 maschile ha parigiato in casa per 3-3 contro Torre del Greco. Il match è partito con il vantaggio della matricola sassarese Marco Poma, che si è giudicato il quarto e il quinto set con il punteggio di 11-4 e 11-6 contro l'avversario Sciola Oietaio. Il secondo duello è stato quello più sofferto per la squadra sassarese, dove il neo acquisto a Scimiglio è partito bene con 1-0, ma al secondo set la partita ha visto protagonista il pungista Sabatino per una vittoria 13-11. Nel terzo confronto l'aquilano Marco Prosperini si è imposto per 3-0 su Marco Sinigaglia. A Scimiglio ha poi tirato fuori le unghie confermando il pareggio alla squadra sassarese per 3-0. Ottima partita per l'atleta Poma che si è fatto notare anche nel match contro Prosperini, con una vittoria schiacciante nel quinto decisivo set per 11-3. La squadra di Torre del Greco ha immediatamente puntato alla rimonta con un pareggio ottenuto grazie a Sabatino durante il quinto set contro Sinigaglia.